Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, eccoci di nuovo insieme, oggi parliamo di suocera, della suocera, di meno del suocero, suocera che è il punto chiave, la chiave di volta del matrimonio monogamico patriarcale, vedete cari amici voi in casa vostra dovete sempre tenere un buon vocabolario della lingua italiana e anche la Bibbia, non deve mancare mai un vocabolario buono, anche aggiornato, la Bibbia, dice la Bibbia, perché sei credente? Ma no, non c'è bisogno di essere credenti per tenere in casa la Bibbia, la Bibbia dovrebbe essere una lettura serale, perché la Bibbia è il testo chiave del patriarcato, il patriarcato, la Bibbia, primo ordine crescete moltiplicatevi, no? E poi il decalogo, non desiderare la donna ad altri, non desiderare la roba ad altri, eccola qua, proprietà privata, famiglia, la donna è cosa? Famiglia, è paterfamilias, la donna è mia, tutta mia, sono mia, non mi tradirà mai, non mi tradirà mai, bene, 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 allora parliamo un po', tutti i nomi che designano i vari gradi della parentela sono orribili, sono orribili, della parentela patriacale, sono orribili, già papà e mamma, papà e mamma, papà, papà, che ci ricordano la nostra miserabile nascita, no? Quando eravamo lì nella culla impotenti e si balbettava e tutti erano lì attorno a noi a dirci delle idiozie, perché non si riesce a capire come noi siamo stati capaci di imparare a parlare con tutte le idiozie che papà, mamma, 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 papà, poi abbiamo nonno, nonna, nonno, nonno, nonna, zio, zio, zia, cognato, cognata, pro zio, pro zia, cognato, orribile, i cognati si odiano i cognati, c'è un'invidia feroce fra i cognati e se uno c'ha la parabola anche l'altro la vuole, se uno si è comprato una macchina nuova anche l'altro la vuole, orribile, però la figura chiave è la suocera, la figura chiave della famiglia monocamica patriarcale di che sono i coniugi, il marito e il moglie o compagno e compagna o fidanzato e fidanzato è una suocera, parola orribile, e qua il patriarcato è stato molto coerente nel coniare questa parola, perché per una realtà orribile si deve coniare una parola orribile, suocera io ho sfogliato il vocabolario, non ho mica trovato una cosa peggio della parola suocera, ma neanche le furierini, neanche le furierini sono parole così terribili come quella della suocera, perché poi il patriarcato si sono moltiplicati i reati, i reati con la proprietà privata, non desiderare la roba d'alti e uno la desidera per forza la roba d'alti, se c'è la proibizione scatta il desiderio, non c'è nulla di più desiderato quanto ciò che viene proibito, c'è la moltiplicazione, facete moltiplicatevi, c'è stata pure la moltiplicazione dei reati, allora le furierini le hanno dovute trasformare gli stessi patriarchi in eumenidi, eumenidi, perché erano le idee della giustizia, ma era una giustizia troppo tremenda contro gli assassini, però quando i reati erano pochi, vabbè, potevano essere pure tremende l'idea della giustizia, le furierini orribili, però quando i reati le sono moltiplicate bisognava un po' addolcire le pene, quindi sono state trasformate nelle eumenidi, le benevole, ma nessuno è riuscito a trasformare la suocera in una realtà benevola, nonostante siano trascorsi i millenni, da quando è stato fondato il patriarcato, la famiglia monogamica patriarcata, la suocera è rimasta sempre la stessa, sempre orribile, figura orribile, ben designata dalla parola suocera, figura orribile e parola orribile, ma pensate voi, guardate, per non sposarsi basterebbe che voi diate un'occhiata alla mamma della fidanzata che voi volete sposare, o mamma anche della donna con la quale voi volete convivere, se voi guardate la vostra suocera, vedete come sarà la vostra moglie fra 30 o 40 anni, che poi non solo c'è anche un depredimento sul piano dell'aspetto estetico, ma c'è un aumento inversamente proprio della cattivelia, della malvagità, perché più la moglie invecchia, più la moglie invecchia, più si incattivisce, si incattivisce, ed è proprio per l'incattivimento, siccome prigioniera è il capo famiglie, immaginiamoci, gli fa i dispetti, siccome è obbligata a stirare, a rammentare, a attaccare i bottoni, a lavare i calzini, anche se c'è un lavoro fuori, è chiaro che desidera enormemente, scusatemi, mettergli le corna al marito, mettergli le corna, con lui a letto non si fa più niente, ma con un altro sì, magari senza desiderio, ma solo per fare un dispetto, solo per fare un dispetto al marito, e quando voi vedete la suocera, restate impauriti, altro che megera, altro che megera, e d'altra parte la suocera quando guarda voi, 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 che state per accompagnarvi con sua figlia, quando guarda voi, vi guarda con disprezzo, vi guarda con disprezzo, vi guarda, perché se voi avete scelto di sposare sua figlia, vuol dire che voi farete la fine di suo marito, cioè sarete cornificati, si diceva, ci avrà più corna lui di un cesto di lumache, come si suol dire, così si suol dire, ma questo vale pure per la vostra compagna, la vostra fidanzata, quella che sarà la vostra moglie, quando vede la vostra mamma, come si guardano di brutto, come si guardano di male quando si vede male, se voi siete uomini, se voi siete donne, se voi siete donne, se voi andate a conoscere la mamma del vostro fidanzato, del vostro fidanzato, del vostro compagno, quello che sarà il vostro marito, se voi siete donne, voi che mi ascoltate, voi sarete sclutate in maniera terribili dalla suocera in pectore, perché la suocera in pectore penserà che voi, che voi, donne, giovani, fanciulle che mi ascoltate, farete a quel ragazzo lì che è suo figlio le stesse cose che lei ha fatto a suo marito, quello che diventerà il vostro suocero, il vostro suocero, inevitabile, inevitabile, si guardano in faccia, suocere e Nora, appena si conoscono e si studiano, si studiano, ma la suocera in pectore, che già le sue cose le ha fatte, pensa a quello che voi, giovani fanciulle, farete, farete, a tutti i torti che farete al vostro fidanzato, al vostro compagno che è suo figlio e che lo castrerete, si si, gli stirerete le camicie, gli laverete le mutande, i calzini, ma lo castrerete, le farete un povero zerbino, come il marito, il vostro suocero in pectore, che è diventato uno zerbino, figura orribile quella della suocera, figura orribile, che è ben designata da una parola adeguata, suocera, la parola più brutta che ci sia nel nostro vocabolario, va bene cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.